ragazzoli belli benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore croatomist quindi basterà andare nell'item shop cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome ovvero croatomist accettare ragazzi e il gioco sarà fatto vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta scioppiate qualsiasi skin su fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories quindi ragazzi grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi ma adesso guardatevi questo fantastico video voglio andare di solo che ho ingolato l'asta degli occhiali storta ma perché veramente ti sia la staccata ma sarà anche il caso che ti va a fare gli occhiali nuovi e li devo andare a fare nuovi veramente io pure nelle anche aspettando quello anche io devo fare le lenti ma che ci sono che hanno pure la montatura perché mi ha rotto le palle sia io la montatura ce l'ho rotta se tu ti fa tutte e due eh sì lenti io faccio pure la montatura perché cioè voglio sempre una montatura di questa dimensione perché la dimensione che mi sta diciamo meglio sul vino sul mio viso però ne volevo una cosa diversa e di quella vicina sono leopardate non mi piace le tue questa nel pump e non ho niente ok c'è da solo sotto e non tutti quanti un'arma buona capito qua c'è un tac è mio cioè ho fatto 80 108 quanto è forte ma è giù no ma è sopra no no è sotto sotto senti male a dubbio 21 arrivederci a dopo domani è stato un bel piacere averti qui sì dai sono appena uscito e già mi hai fatto 30.000 hs dai c'è uno c'è uno a sinistra vedi morto che fai non ho trovato il lancerato che c'hai non ti dico che c'hai hai i razzi per me ah l'ho visto sul tetto ok dobbiamo pusciarlo per forza sono due lo so ma io ora lo puscio grississimo senza colpi di pump però va bene 31 31 non toccate i jody tutti morti ma perché gli devi dire così lui sta solo giocando con i suoi amici e più voglio fare un volo di rai pg è morto di folla se spessato pure la ma è per me e certo mi hanno dato mille mi ha dato mille di legna quello di sopra mille che a me me lo vuoi di qua ce n'è per 150 se vuoi io non la trovo il bolt action è caduto giù scusami dove c'è no tranquillo luta lo ammazzi a sedizio 101 e 95 tattico verde oh sì ti prego un pochino dai un po' per vedere che sapore ha oh sì ti prego mamma mia pushatemi tutti i viti vi spacco uno per uno porca a una certa età era per te era ovviamente per me mica per te è giusto c'è c'ha 10 hp 10 veramente non mi spara il po' madonna sono morta sono entrambi bianchi ma c'è 10 hp se si fatti scelta non mi spara che ne ha attrappato sono solo solo no no mi sa che non le prese Sì, no, come? Dai, ti giuro... Oh, io ce l'ho provato, ma por... Caputta. Se è in prima persona non spara. Sì. Vabbè. Ti fiorgo. Oddio. Vabbè, creativa, player. Ciao, piccolo angelo. Oh, mi dispiace, sai. Così impari. Ti prego. Io ti scongiro. Uff. Oh, mio Dio. Credit player. Mi dava... Porca p***a, non lo so dove. Ma l'hai visto, Cristo santo? Sì, sì. Stavo andando verso un... Cioè, non lo so. Non lo so, spammare razzi, tipo. Questo lì. Devo spammare i razzi. Oggi c'era l'hitbox, bagate, c'era. No, tu itali. Non lo so. Ôi. e.e.e.i.e.i.o.sthere. Carino Ah, è sotto Dammi un attimo, brother Prende la trap One moment, please Quarantuno Un attimo Grazie a tutti. Mamma mia, ragazzi, che cazzo di claccio che ho fatto prima? Holy shit! Vuoi giocare con le palline? Un pochino. Tiri tiri tiri...